Oggi è un'ottima giornata per la natura abruzzese, per l'orso bruno, il falco pellegrino, l'aquila reale, il gufo reale, il gracchio corallino. La corte costituzionale ha bocciato la legge della regione Abruzzo con cui si riperimetrava il parco, tagliando dal parco 6.400 ettari di natura un tempo protetta. Oggi questi territori ritornano a essere parco, quindi è una vittoria importantissima che arriva dopo una lotta strenua. Noi avevamo lanciato l'allarme fin dall'inizio, avevamo chiesto alla regione Abruzzo di recedere da questa sconsiderata idea, però non c'è stato niente da fare. Sono andati avanti il presidente della regione Marsilio, l'assessore Imprudente e il consiglio regionale che hanno votato questa norma che è stata giudicata incostituzionale da parte dei giudici. Ora quindi 6.400 ettari tornano nel parco e adesso è importante gestirli correttamente senza cercare queste scocciatoie che andavano incontro a interessi di pochi cacciatori soprattutto per tutelare invece e promuovere una biodiversità che è importante a livello comunitario. È un patrimonio internazionale e va gestito in questo modo non è solo un onere ma è soprattutto un onore.